Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog, oggi parleremo della redstone, ovvero il materiale che conduce energia elettrica su minecraft. Come conosciamo la redstone è trovabile in miniera, ma qual è il segreto della redstone? La redstone quando scaviamo al 90%, se scaviamo nei 10 blocchi intorno, potremmo trovare dei materiali qualsiasi, da parte delle volte troveremo carbone e ferro e molto raramente oro e diamante. Ho qua salvato alcune immagini che volevo vedere in creative mentre volavo, la redstone con vicino del carbone, oppure in altre con vicino dell'altro carbone. Fortunatamente con del ferro e con del diamante, come vedete qua. Questo fattore è molto importante soprattutto perché quando scaviamo sappiamo che avremmo delle possibilità di trovare più minerali presenti in un unico punto. Io ad esempio quando vado a scavare in miniera, quando trovo la redstone cerco di scavare l'intorno per trovare della roba e appunto qualche volta trovo della roba. Queste cose non si possono trovare su internet, sono state scoperte autenticamente da me, quindi non ho cercato la roba su internet, non mi sono informato, ho fatto tutto io. Spero questo mini vlog vi sia piaciuto, ciao a tutti e alla prossima!